Eccoci qua, ciao ciao! Beh, avete visto bene il logo, uno dei loghi utilizzati semplicemente per il mio telefono per il Cupra Drive Club. Sì, avete sentito bene, questa è una grande novità, ormai da circa un mese è nato il Cupra Drive Club. Restate su questo video per sapere di cosa si tratta e se vi interessa per sapere come farne parte. Beh, innanzitutto perché il Cupra Drive Club? Il Cupra Drive Club nasce come associazione culturale, ricreativa, no profit, senza fini di lucro, registrata regolarmente all'Agenzia delle Entrate, quindi è un'associazione come tutte le altre, come gli appassionati dei francobolli, quindi il club filatelici, va bene, e come tale naturalmente ha un atto costitutivo, uno statuto con le sue finalità e lo scopo, naturalmente, della sua attività. E lo scopo del club è quello proprio di promuovere naturalmente il brand Cupra, le autovetture Cupra, l'automobilismo in generale, ma anche il turismo, turismo magari sostenibile, comunque attento al territorio, alla riscoperta di luoghi magari un po' dimenticati, ed è quello che è successo proprio con l'ultimo raduno Cupra Etna 2023. Siamo andati alla scoperta di un paio di luoghi magici, comunque molto, molto interessanti, a un'ora da Catania e molti partecipanti della provincia di Catania non li conoscevano. Un'altra finalità importante, a cui tengo veramente tanto, è quello non soltanto ludico, ricreativo, ma anche la finalità di tipo educativa, informativa, cioè la possibilità di organizzare eventi, che non siano soltanto raduni, ma anche nella forma di incontri, seminari, per diffondere un po' il mondo dell'automobile in relazione all'ambiente, alla tecnologia futura e naturalmente anche in termini di sicurezza. Il Cupra Drive Club quindi nasce direi quasi fisiologicamente, è dato un po' data la crescita, e vi ringrazio enormemente tutti, su tutte le piattaforme social, per avere una maggiore riconoscibilità, una capacità di interazione e di contrattazione, diciamo così, con i vari partner e interlocutori è differente. Una cosa naturalmente è interagire a livello personale, e questo nel chiedere una convenzione, nel pagare il conto di un ristorante per un evento e cose di questo tipo, ben altra cosa naturalmente muoversi come associazione o come presidente dell'associazione. E questo è il motivo per cui veramente già nelle primissime settimane di vita del club abbiamo ottenuto tantissime convenzioni, trovate tutte le informazioni del club e anche le convenzioni sul sito cupradrive.org, che è il sito ufficiale di Cupra Drive e del web, e sono cresciute così tanto che le abbiamo dovute suddividere per sezioni, quindi trovate le convenzioni con, per quello che riguarda aziende che distribuiscono prodotti di cura dell'auto, car care, il detailing, o gli accessori, quindi ricambi, oppure tuning, componenti, parting, carbonio, fino addirittura alla moda e al viaggio. L'ultima convenzione è con nella catena alberghiera spagnola NH, che ovviamente si trova un po' in tutto il mondo. Le convenzioni sono di diverso tipo, quindi naturalmente alcune possono essere utilizzate in perfetta autonomia dai membri del club, utilizzando il codice sconto, il coupon, da applicare poi direttamente sul sito e-commerce dell'azienda in questione. In altri casi invece non abbiamo un coupon, ma abbiamo una corsia preferenziale, per cui bisogna compilare un form nella pagina dedicata ai partner e con naturalmente la richiesta dell'articolo, degli articoli interessati, il codice e quant'altro e anche ovviamente i dati personali, in modo da poter inoltrare la richiesta al produttore o distributore e avere subito, insomma, tempi celeri, un preventivo ufficiale e poi anche le modalità di pagamento per ricevere il prodotto a un prezzo scontato. Come vedete le convenzioni quindi sono sia a livello nazionale e internazionale, parliamo per esempio di NH Hotel, si può prenotare un albergo a tariffa scontata in qualunque parte del mondo, ottenere un accessorio, uno spoiler, una minigonna per una Cupra Formentor, per esempio da Maxton Design praticamente ovunque, oppure tappetini che sono da MTM Shop, un filtro sportivo, da reparto corse, RPM eccetera. Quindi abbiamo tante tante convenzioni e altre sono ovviamente in arrivo perché mandiamo email continuamente. Le convenzioni sono sia a livello nazionale e internazionale, sia a livello territoriale, perché? Perché in alcuni casi naturalmente non abbiamo a che fare con aziende che operano su tutto il territorio o a livello internazionale o non hanno un e-commerce, ma il vantaggio va ottenuto fisicamente presentandosi in loco, per esempio presso un gommista, un elettrauto, un meccanico, un carrozziere o un autolavaggio. Per esempio l'ultima convenzione che abbiamo, proprio in ordine cronologico, è con un autolavaggio della zona di Catania, Mister Bianco e ARPA, che poi è l'autolavaggio utilizzato anche da Commerce Sud, il Cupra Gare con cui collaboro, per il lavaggio e la consegna delle auto pre e consegna o dopo un tagliando. Ho ricevuto richieste e segnalazioni naturalmente di servizi di questo tipo, quindi autolavaggi sparsi per tutta Italia o altri servizi, come quello per esempio di un preparatore, di un meccanico eccetera, ma cosa importante a livello territoriale stiamo cominciando a contattare anche i Cupra Garage e le concessionarie presso cui comprate l'auto, avete comprato l'auto, presso cui vi recate per il vostro service, quindi la vostra manutenzione. Naturalmente alcune convenzioni sono in fase di discussione, altre in fase di attivazione, è inutile dire qui adesso di cosa si tratta, perché poi lo stabilirà eventualmente la concessionaria, in termini di benefici possono essere sul merchandising, sul service o altre iniziative di marketing che la singola concessionaria naturalmente può stabilire. Detto tutto questo, a questo punto significa naturalmente capire come iscriversi, ma ci tengo a precisare una cosa a me molto cara, cioè non voglio far passare l'idea che ci si iscrive al club soltanto per il vantaggio che si ottiene, i soci, già quasi tutti, gli ultimi non ancora, hanno per esempio ricevuto dei piccoli gadget spediti direttamente da Amazon. Naturalmente non ci si iscrive a un club, a un'associazione perché si ottengono due panni in microfibra, due spugnette o due prodotti per la pulizia dell'auto e magari nemmeno per qualche sconto, per qualche vantaggio. È anche vero che in base al prodotto che comprate, allo sconto che ottenete, vi ripagate la quota sociale, però quello che per me è importante è diffondere il messaggio che ci si iscrive a un'associazione, qualunque essa sia, perché innanzitutto si condivide lo spirito di quell'associazione, la sua mission, diciamo così, e quindi la si vuole supportare, poi questo quasi indipendentemente dal, diciamo, tornaconto in termini di vantaggi, coupon, benefici e quant'altro. Quindi se condividete la missione del club, ve lo presentate in apertura, la trovate poi dichiarata naturalmente nello statuto dell'associazione, documento disponibile online, e a quel punto sì, siete i benvenuti a bordo. Abbiamo previsto, come per qualunque associazione, due tipologie di socio, socio ordinario e socio sostenitore. Il socio ordinario lo abbiamo chiamato cuprista, il socio sostenitore cuprista veloz. Cosa cambia? Beh, innanzitutto cambia dal punto di vista proprio della posizione, diciamo così, del socio. Il socio ordinario, in generale, paga semplicemente la quota sociale per ottenere tutti i vantaggi dell'essere socio del club. Il socio sostenitore, invece, oltre a pagare la quota sociale, paga un surplus che è il suo supporto. Ecco perché socio sostenitore vuole contribuire maggiormente alla crescita del club e alla sua, quindi, capacità di organizzare eventi, di mandare email, di ottenere nuove convenzioni e di lavorare, comunque, per la crescita del movimento. Come ci si scrive? In autonomia, assolutamente in autonomia, sito cupradrive.org, c'è la pagina dedicata al club, con tutte le informazioni relative, ripeto, all'atto costitutivo, lo statuto, le tipologie di socio e tesseramento, le quote, 25 euro annuale per il cuprista, 50 euro per il cuprista veloz, la possibilità di fare delle donazioni di qualunque altro importo superiore, quindi ottenere così una membership ulteriore, che è quella del cuprista onorario e, naturalmente, il cuprista fundador, che è il fondatore, in questo caso io, insieme ai membri del consiglio direttivo nell'atto costitutivo di creazione del club. Ci si scrive, dicevo, in autonomia c'è la pagina con la registrazione, tutti i dati sono richiesti perché facciamo le cose correttamente, l'associazione, essendo registrata, richiede per ogni socio tutti i dati, inclusi dati anagrafici, dati fiscali, perché uno degli obblighi di legge dell'associazione, di un'associazione senza fini di lucro, è comunque quello di mantenere aggiornato per ogni anno il libro dei soci, quindi avere sempre un registro di tutti coloro che effettivamente si sono iscritti al club. Altra cosa fondamentale, provo poi a chiudere questo video, mi pare che le informazioni fondamentali siano state date, trovate anche una sezione FAQ comunque sul sito, in ogni caso resto sempre a disposizione su YouTube, su Instagram, nel gruppo Telegram, per ogni altro chiarimento, ma ci vengo a precisare, per chi non fosse avvezzo di cose associative, che i fondi che un'associazione riesce a mettere su attraverso sostanzialmente le quote sociali, perché l'associazione vive e sopravvive grazie al contributo dei suoi suoi soci, magari qualche donazione, qualche altra erogazione, ma sostanzialmente vive grazie alle quote che si pagano ogni anno, bene questi fondi servono soltanto ed esclusivamente alla gestione dell'attività, quindi non vengono spartiti, non vengono suddivisi, non si guadagna nulla, semplicemente sono fondi da utilizzare solo per le finalità previste nello statuto dell'attività, quindi potrebbe essere un evento, l'organizzazione di un'attività, ma insomma tutto quello che riguarda il bene dell'associazione e non il bene dei singoli membri, questo molto importante da sottolineare. Bene, mi pare che come presentazione delle cose fondamentali che riguardano il Cupra Drive Club ci siamo, naturalmente tutto il resto possiamo approfondirlo insieme, ma spero di aver lasciato questo messaggio al di là di tutto. Venite a bordo del Cupra Drive Club soprattutto se condividete la passione per il marchio, magari anche se volete supportare le mie iniziative, il mio modo di spendermi per questo mondo e soprattutto se insomma se volete fidelizzarvi, crescere e avere la possibilità di presentare magari delle richieste per un problema che avete all'auto o per una scontistica che vorreste ottenere da qualche partner, quindi vantaggi certamente sì, ma fatelo soprattutto se condividete il mondo Cupra Drive. Bene, direi che è tutto, se non salite a bordo del Cupra Drive Club, quantomeno iscrivetevi qui sul canale YouTube se non l'avete ancora fatto, Telegram, Instagram, insomma ci becchiamo un po' dappertutto. Allora vi ringrazio come sempre, dunque alla prossima e ciao ciao!